Porco cane, dove l'ho messo? Sarà qui dietro l'angolino? No, sotto il letto? Andiamo, no? Ehm, qui dietro? Dai, si sarà incastrato in mezzo ai cuscini, sicuramente, no? Dove è finito? Porco cane, dove è finito? Aspetta, stiamo registrando? Ah, buongiorno ragazzi, insomma, ragazzi e ragazzi YouTube bentornati su LiveVSMP, Io sono Revolgamer e ho perso il portafoglio Ed è mezz'ora che lo sto cercando, mi sta dando un fastidio cane Non so dove è finito, non so dove l'ho messo, se mi è caduto in mezzo alla neve, sono finito Potrebbe essere finito, in mezzo al tagliapiegra, che ne so, mi sarà finito sul balcone, no? Sull'ingresso di casa? Ma è finito? Ah già, mi sono appena ricordato che sono povero, quindi non ho neanche un portafoglio E la reprezzi Allora, lasciando stare la mia povertà, che sono dettagli Facciamo la intro serie Ragazzi e ragazzi YouTube bentornati sulla LiveVSMP Ed è la seconda volta che lo ripeto Oggi siamo sulla LiveVSMP, terza Io sono TheWallGamer E siamo qui, nella casa che avevo costruito nello scorso episodio Che posso essere onesto con voi? Per forza Lo scorso episodio vi è piaciuto tantissimo Ha raggiunto in pochissimo tempo una incredibile quantità di visualizzazioni Cosa che finora non era mai successa Quindi devo supporre che questa serie vi piaccia E anche tanto, e meno male Allora, off camera che cosa ho fatto? Ho fatto questo sentierino Ho aggiunto 3-4 sassi Continuo a nevicare, eppure notte Me ne accorgo solo ora E devo continuare a togliere la neve Però vabbè dettagli Ho aggiunto la famosissima ringhierina Perché ribadisco, come nello scorso episodio Che se una sera esco ubriaco Cado di sotto e non credo che riuscirò a sopravvivere Però, dettagli Qui ho decorato un pochino la stalla E siccome qua davanti c'era Un puntone di piecra così L'ho voluto decorare raggiungendo una cascatella Poi lì sotto andrò a decorarlo, eh Lo sistemerò sicuramente Però, lasciamo stare Guarda lì quei mob che mi vogliono assolutamente Guarda lì come voglio nel mio sangue Ah, abbiamo aggiunto un'altra cosa off camera Io e Rick che ci abbiamo lavorato quasi una settimana Dove praticamente Se premiamo tab Ci sono dei numeri Che sono delle monete Come potete vedere, come dicevo io prima Sono povero, zero monete Però, lasciando stare E giustamente Le monete dove si spendono Ha un mercato E abbiamo costruito un mercato enorme Signori, che già in molti di loro stanno utilizzando A vedere quanti soldi hanno effettivamente E infatti qui di fronte all'albero della pace Oltre che una stazione blocchi speciali Che è un'altra cosa che abbiamo costruito off camera Io e Rick Praticamente se noi premiamo questo pulsante Ci dà gli atem frame invisibili Che sono buoni per decorare E poi qua davanti abbiamo Ciccio e Franco Che sono le due persone che troviamo davanti l'ingresso E qui abbiamo il teletrasporto Quindi se scendiamo qui sotto A parte i nostri collaboratori Che non piagliamo assolutamente Che si chiamano Vendi e Compra Per indicare che da questo lato si compra Da questo qua si vende E praticamente noi arriviamo qui Abbiamo questo supermercato che è enorme Abbiamo lavorato tantissimo Non sapete neanche quanti common block ci siano dietro Da questo lato abbiamo una buona quantità di oggetti Noi basta che premeremo qui E riceveremo quegli oggetti Se noi ne avremo le monete Da quel lato invece se noi avremo quegli oggetti Riceveremo le monete che ci sono qui sotto Poi se saliamo la scala qua sopra Abbiamo altri due lavoratori Che si chiamano Piano 2 e Piano 2 Però hanno la freccia differente Abbiamo l'incudine Vabbè lasciamo stare l'incudine Qui abbiamo il teletrasporto per il piano superiore Quindi ti tipizzi un attimino dentro il muro Però lasciamo stare E qui possiamo comprare tante altre cose Ho aggiunto le uova di animali Per il motivo che non spanavano mai all'interno del server Qui puoi comprare gli esmeraldi Insomma c'è un sacco di roba E lo stesso ci sarà dall'altro lato Dove potremo vendere Di ecco ci sono un sacco di common block Che qui si può vendere il tridente Mentre invece di là si compra Che ormai se lo potrebbero comprare praticamente tutti Costa 1050 La gente per fortuna sta utilizzando tantissimo questo mercato E meno male perché se no io e Ricky ci saremmo rimasti malissimo Abbiamo fatto questo sentiero Che ci porta anche all'albero della pace E così via C'è qualcuno che mi ha frecciato Quindi via Via Continua a frecciarmi Aiuto 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 Ah e qua davanti ho decorato casa Non è solo qua davanti Ho letteralmente decorato la casa Eh Porta Buongiorno Allora Ho messo un po' di ordine Ho fatto un pavimento in erba Che è bellissimo Qui a destra invece ho fatto Una farm di cannella e zucchero off camera Che produce una buona quantità di roba E qui ho fatto un piccolo magazzino Che però attualmente è vuoto Per il motivo che ho spostato tutto Nella nuova casa Mentre invece di qua abbiamo Marius Il pollo interdimensionale Potentissimo Iper intelligente Che peraltro è andato nel nether Prima di me Però lasciamo stare E qui abbiamo tre letti Ovvero Eevee Che sono io Stex Che è uno dei miei migliori amici Anche Sasuke E Marius Prima poi ti portano Nella nuova casa Stanne tranquillo Piuttosto voglio che tu muoia Soffocato Guarda Ma cosa rimane? Rimane il fatto che Non ho niente da farvi vedere Che riguarda gli aggiornamenti del server Cioè vi ho fatto vedere Il senso è Cosa andremo a fare in questo episodio? Off camera ho costruito Dei piani sotterranei Tra cui Questo Questa piccola stella Stanza con Illuminazione in lava Che è figlierrima E questo piccolo magazzino Più piccolo rispetto a quello Nell'altra casa Però Più scombinato Diciamolo Qui ci sono un sacco di risorse Sì Ognuno di noi ha farmato tantissimo All'interno del server C'è gente che è pure più ricca di me Probabilmente io sono tipo Il secondo O il terzo più ricco E qui ho creato Questa stanza enorme Voi mi chiederete Ma come hai fatto a prendere La piecra nera Se ancora non sei andato nel nether? Bene Questo è quello che succede Quando tutto il resto del server È già andato nel nether Però Questa stanza è un po' vuota A parte queste Porte Questi portoni Dove praticamente Costruirò dei tunnel Che ci porteranno Nel resto della montagna Cioè Abbiamo una montagna a disposizione Voglio dire Utilizziamola Fatto sta Che qui abbiamo uno spazio Vuoto E quindi Che cosa ho intenzione di fare Ecco ci sono caduto dentro Pazienza Cosa ho intenzione di fare All'interno di questo spazio vuoto Non sarà vuoto Perché qui dentro Costruiremo Un piccolo meccanismo Di redstone Per poterci fare Un tavolo incantato Io potevo andare A costruirmi un bellissimo Tavolo incantesimo Normalissimo Con le librerie E roba varia Eh No Perché sono una persona A cui piace Complicarsi la vita Qui sopra abbiamo Tutti i materiali E' il più piccolo Che finora ho trovato E in cosa consiste Questo meccanismo Consiste nell'aumentare E diminuire La quantità di librerie Attorno Al tavolo In questo modo Si può aumentare E diminuire Sia il costo Che la potenza Degli incantesimi Questo effettivamente Penso sia più comodo Rispetto ad avere Per esempio Tutte le librerie Al massimo Ti chiede 32 livelli Per protezione 1 Che non credo Convenga più di tanto Quindi io direi Ricominciare Con il nostro meccanismo Allora Prima di tutto Lo scavo Allora Qui ci sono tutti i materiali Prima di tutto Lo scavo Quello che dobbiamo fare E fare Un buco Largo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 per 7 E altro 4 tecnicamente Perché poi Circa a questa altezza Ci sarà il tavolo Come si chiama Ci sarà il tavolo Degli incantesimi Quindi più o meno Funziona così Comunque La prima cosa Che dobbiamo giustamente Andare a fare E piazzare il tavolo Degli incantesimi Andiamo a mettere Un comparatore qui Della redstone Quindi 1, 2, 3 Un altro comparatore qui L'ho messo bene Wow Andiamo a togliere qua Questa torcia Facciamo così Così Un altro comparatore qui Altra torcia da togliere Altra redstone Comparatore Questo era l'ultimo E poi mettiamo la redstone Fino qui in fondo E poi qui Dobbiamo mettere Uno server Così E poi andiamo a mettere Un ultimo blocco qua Poi la prossima cosa Che dovremo andare a fare Piazzare delle torce di redstone Qui accanto Accanto alla polvere di redstone Perfetto E sopra le torce Dovremmo mettere Dei pistoni Appiccicosi Che già Si stanno alzando Datemi un attimo No Ma ho fatto a piazzarvi qui Questi sono gli ultimi Due E poi l'ultimo Lo devo mettere Qui Poi dobbiamo mettere Le librerie Che andremo a piazzare Al di sopra Di ognuno Di questi pistoni E invece Qui al centro Mettiamo un libro E penna E dobbiamo fare In totale 15 pagine E nella prima Bisogna scrivere Quattordici Qui credici Qui dodici Qui undici Qui dieci Qui nove E così via Fino a zero Che sarà la quindicesima pagina Poi Firmiamolo Titolo del libro Iscrivetevi Con due punti esclamativi Iscrivetevi Perfetto Firma E chiudi Iscrivetevi Seguite il titolo del libro E se lo andiamo a piazzare qui Potete vedere che già il primo si è abbassato Ok ho fatto un piccolo errore L'ultimo libro lo dovevo mettere qui L'ultima libreria E adesso in teoria dovrebbe funzionare Quindi Quattordici Tredici Dodici Undici Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Zero Premiamo Fatto E sono tutti abbassati Se invece ritorniamo alla pagina iniziale Le avremo tutte Tranne questa come giusto che sia Se invece vogliamo fare in modo che rimanga tutto quanto nascosto Diciamo così ci basterà prendere il libro E si alzerà anche quest'ultima Quindi andiamo a rimettere il libro Iscrivete No Così E signori abbiamo finito In questo momento se gli andassi a incantare la mia ascia mi richiederebbe 28 livelli per efficienza 4 Wow Indistruttibilità 2 e efficienza 1 Spettacolo Ma per me è un po' troppo siccome devo incantarmi anche un sacco di cose E possibilmente me le faccio nuove Quindi io vado all'ultima Alla penultima anzi scusatemi Pagina Che ammazzerà una sola libreria E se io dovrò andare a incantare l'ascia mi richiederà 8 livelli per efficienza 2 Efficienza 1 o efficienza 1 Signori Abbiamo fatto il tavolo degli incantesimi Qua poi mi basterà mettere del legno per fare in modo che si confonda E ce l'abbiamo fatta Adesso giustamente il video sarebbe un po' troppo corto lasciando stare i dettagli Voglio andarmi a incantare la mia armatura La mia spada, l'ascia e così via L'unica cosa che mi farò in diamante sarà il piccone E lo so Andarsi a incantare le robe in ferro è una cosa che si farebbe solo nell'ultra hardcore Però ragazzi sono il più povero del server Ho bisogno di maggiore protezione Per l'armatura in diamante ho intenzione di fare un'altra cosa Ovvero, ah già i diamanti ce li avevamo Bravo scemo che sono Ciò che io voglio andare a fare con l'armatura in diamante sarà Risparmiare i livelli Diciamo così, cioè andare a farmare i livelli E farmare libri di ottima qualità Fino al massimo livello Per tutto Tutti gli oggetti che io andrò a fare in diamante Che magari mi serviranno Per esempio l'armatura Non la farò vedere e non la indosserò Finché non avrà protezione 4 Finché non diventerà l'armatura più forte Che poi successivamente in un giorno Andremo a far diventare dall'armatura in diamante in nederite Questo è praticamente il mio piano E finora invece andremo a giocare Andare in giro per il server con l'armatura in ferro Però il piccone me lo devo andare a incantare Perché è tra le cose che ancora più mi serve Perfetto, ho praticamente craftato tutto quello che dobbiamo incantare in ferro Il piccone in diamante invece lo andrò a craftare con voi adesso Qui abbiamo fatto tutta l'armatura Lo scudo con il mio banner bellissimo Che adesso vi faccio vedere Che rappresenta un po' la mia maschera Sarebbe più bello fuori dallo scudo Però questo è un dettaglio che sicuramente un giorno andremo a rimediare Sicuro Quindi andiamo a craftare il nostro piccone in diamante Io personalmente sono incitato È sempre un'emozione bellissima Piccone in diamante Oh mio dio Quanta durabilità ha rispetto all'altro piccone 1561 rispetto ai 250 del piccone in ferro Spettacolo Io signori sono emozionatissimo Adesso andiamo a incantare il tutto Metto qui 3-4 cosette I blocchi di legno insomma Per rendere il tutto migliore Poi invece dovevo fare degli scalini Guarda caso però non avevo uno preciso In teoria non dovrebbe andare a dar fastidio al meccanismo Esatto Iniziamo con incantesimi di base Quindi 1 Andiamo a prendere il nostro e al mieto Devo andare a prendere l'apis Sono un cretino oggi mi sto dimenticando la metà delle cose Ma per fortuna di l'apis ne abbiamo in quantità industriale 41 penso debbano, possano bastare Penso Poi nel caso ne craftiamo altri Quindi Oh grande libro dammi la tua saggezza Quindi Elma in ferro Lapis lazuli Abbiamo protezione 1 Protezione di proiettili E protezione dei proiettili 2 Allora protezione 1 Io ho compiuto l'achievement Ieeey Corazza in ferro Cos'è sto vuoto? Cos'è sto vuoto? Grazie Ricca per il GG Protezione 1 O indistruttibilità Eeeh Protezione 1 direi Almeno è una teoria Indistruttibilità 1 Protezione 1 Indistruttibilità 1 E qualcosa Facciamo questa Beh Indistruttibilità 1 Pazienza Gambali in ferro Protezione 1 Indistruttibilità 1 Protezione 1 Allora Siccome voglio essere economico Rimettiamo sempre la stessa quantità Quindi protezione 1 Indistruttibilità 1 Protezione 1 Protezione 1 Adesso i pidini Indistruttibilità Indistruttibilità Protezione dei proiettili Indistruttibilità E ci siamo incantati l'armatura Poi verrò di potenziarmela ancora di più Allora Per la spada facciamo Pre Per fieto E mi fa Fragello dagli artropodi Affilatezza 2 Fragello dagli artropodi Eeeh Affilatezza 2 Ora fa 7.5 Buono Lascia Lascia Efficienza 2 Efficienza 2 Efficienza Bah Facciamo Efficienza 2 E basta Adesso il piccone Facciamo 6 Dai Vediamo un po' Efficienza 2 Efficienza 1 Efficienza 2 O Indistruttibilità Eeeh Eeeh Efficienza 2 Signori Mi sento un bambino soddisfatto Però non abbiamo finito Perché ancora Dobbiamo continuare a incantare Quindi vado a recuperare l'altro ferro Secondo round Piedini Protezione 2 I gambali Per il concorso di incantati Con protezione 1 Eeeh Lo facciamo un protezione 2 L'elmetto Finita con l'acqua Mi va bene così Ha finita con l'acqua E se mi ricordo bene E se mi ricordo bene ci fa Scavare più velocemente La corazza in ferro Protezione 1 Allora questa è Efficienza 2 Efficienza 1 Efficienza 1 Efficienza 2 Lo facciamo diventare un'efficienza 3 13 livelli per Efficienza 2 E lo facciamo diventare un'efficienza 3 Diminuiamo perché voglio incantarmi anche altro A questo punto Un'altra efficienza Eeeh Indistruttibilità 2 Efficienza 2 Che sedere ragazzi Io cercavo indistruttibilità 2 Top Adesso vado a cercarmi un incantesimo per la balestra Balestra E la facciamo con perforazione Yeeeh Ora con l'incudine vado a unire il tutto Se ci riesco O almeno quello che posso E poi off camera verrò di unire anche il resto degli oggetti Quindi Perfetto Uniamo Indistruttibilità 1 Ne ha Anzi Efficienza 2 E questo costa 7 livelli Vabbè Spada Ho incantato altro La spada mi pare Dobbiamo incantare la spada Sono un cretino Allora Piccone in diamante L'abbiamo già incantato Quindi adesso abbiamo La spada Con affilatezza Cre Perfetto Poi Indistruttibilità E indistruttibilità Indistruttibilità e protezione Ecco sbagliato Questo e questo Costa 4 livelli Allora proviamo Protezione 1 Protezione 2 Indistruttibilità Perfetto Va bene Non sono riuscito a incantarmi tutto Ma signori Questa è la nostra Nuova armatura Con il nostro nuovo Piccone in diamante Signori Mi sento Una favola Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Off camera Come ho già detto Per l'armatura in diamante Vedrò di Farmare livelli E roba varia Abbiamo due farm A disposizione Quella di scale Che quella di zombie E spero Peraltro Che il video Vi sia piaciuto Poi andrò A incantarmi Nel frattempo Il resto Delle cose Andrò a unirmele E così via Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi Condividete Per aiutare il canale A crescere E io Posso solamente dirvi Ciao YouTube Grazie a tutti